Ciao ragazzi, siamo su Magic Touch Wizard for Iron Siamo in tavola, come vedete, classica Poi c'è il time to hot dog Andiamo a disegnare le lettere sullo schermo Per eliminare tutti questi robot che stanno arrivando qui a prenderci Ciccando di fare il piacere possibile Mentre i segni facciamo i miei segni I miei segni Ci sono alcuni che c'erano uguali Quindi si prenderanno anche quelli C'è bisogno di farne una volta il suo segno Il gioco è stato aperto il cielo, come potete vedere Non c'è che sia Non c'è che c'è da fare E non è che sia Non è che sia un'altra precisione per fare i disegni il 75 questo era un time to attack metà classica metà nissana quindi sarà un casino da zen con la botte classica c'è molto meno se sono bottini che hanno solo palloncino da pasco mi sta segnando quindi il numero di robottini che mi ha fatto eliminato il nostro piccolo maglietto di non fare questo simili che c'è da fare sono farsi sono fasi che c'è il momento adesso cominciamo a fare più fisi adesso cominciamo a dare più lettere da fare sono fasi sono fasi a 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